Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Di prima mattina la rassegna stampa targata Super J, lunedì 20 maggio 2019, siamo pronti come sempre a darvi il buon inizio di settimana, andremo a vedere come da copione tutti i titoli, tutti gli argomenti che sono trattati nei principali quotidiani abruzzesi, il quotidiano il centro, il quotidiano il messaggero e poi appunto seconda parte, parte talk con il nostro ospite. Essendo lunedì daremo molto spazio come sempre anche qui alla pagina sportiva, però appunto nella seconda parte ci riserviamo anche di parlare insomma di altro, non solo di sport, quindi insomma restate con noi e seguiteci anche nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Accominciamo quindi seguendo il solito canovaccio, quindi andando a vedere praticamente la prima pagina del principale quotidiano abruzzese, il quotidiano il centro, in questo caso si parla di post sisma di ricostruzione per quanto riguarda il comune di Teramo e quindi andiamo proprio a vedere il sindaco Gianguido D'Alberto che dichiara lo sblocca cantieri non va, il sindaco appunto rivolge un appello ai parlamentari e dichiara appunto votate gli emendamenti proposti, ovviamente andremo anche a vedere nello specifico di cosa si tratta. Lo abbiamo detto, è lunedì dello sport, quindi ampio spazio dedicato ovviamente agli avvenimenti sportivi, bello qui insomma c'è la foto in prima pagina del quotidiano il centro sulla favola letteralmente del Miano, un paese di 300 anime che è andato appunto, ha conquistato la promozione dopo lo spareggio vinto contro il Villa Mattoni, vedete questa bella foto insomma che dipinge perfettamente la festa del Miano, davvero che entra tra virgolette nella leggenda per quanto riguarda la sua storia sportiva. Sono giorni febbrili invece per quanto riguarda il Teramo e anche qui ne parleremo nella seconda parte, vedete la foto del presidente Luciano Campitelli, Teramo Calcio, giorni decisivi per il passaggio delle quote, insomma si sta discutendo di questo possibile ingresso dell'avvocato Giovanni Palma, ex vicepresidente della Juve Stabia e tra qualche giorno si ipotizza mercoledì il presidente Campitelli avrà un nuovo incontro, proprio con Palma per cercare di arrivare ad un punto d'intesa tra le parti. Torniamo nella cronaca, restiamo sempre sul taglio medio della prima pagina del quotidiano il centro, è scattata dalla mezzanotte il nuovo regolamento praticamente nel traforo del Gran Sasso, dopo che si era temuta anche la chiusura del traforo, quindi Galleria Gran Sasso da oggi limiti e divieti, si viaggia praticamente a 60 km all'ora in entrambe le direzioni di marcia Roma-Teramo e Teramo-Roma e non si potrà più superare il mezzo che precede perché si viaggerà praticamente ad una sola corsia. Torniamo poi a Teramo, la cronaca gira con un coltello in strada fermato, ad Atri invece in questo caso parliamo di sanità, reparto di urologia e Cipolletti, il primario è stato accolto il ricorso. Infine chiudiamo i titoli principali a Tortoreto, accuse sugli asfalti per il Giro d'Italia. Questa quindi la prima pagina per quanto riguarda il quotidiano il centro, restiamo sempre appunto sul principale quotidiano abruzzese, andiamo quindi ad analizzare nello specifico i titoli che abbiamo letto proprio in questo momento, partendo ovviamente dal titolo principale, quindi quello che riguarda appunto la ricostruzione, l'appello del sindaco Gian Guido D'Alberto, ricostruzione e l'ultima possibilità, sblocca cantieri in Senato, se ne discute appunto in Senato, con D'Alberto che lancia davvero un appello nel vero senso della parola, dichiarando i parlamentari votino gli emendamenti al di là delle appartenenze politiche. Chiediamo anche una nuova ed immediata audizione dei sindaci in Senato che non si risolva in una discussione di 40 minuti, quindi insomma D'Alberto alza la voce per quanto riguarda ovviamente il capitolo ricostruzione, sono tantissime le case a Teramo, tanti gli sfollati, quindi insomma c'è bisogno di un'accelerazione sotto questo punto di vista. Poi c'è anche l'ordine del giorno per quanto riguarda, anche qui una questione che è stata discussa nelle ultime settimane con il consigliere Andrea Core che praticamente ha proposto quest'ordine del giorno, presenta l'ordine alla maggioranza con lo stop praticamente alla fusione della Camera di Commercio di Teramo che tecnicamente dovrebbe essere accorpata a quella dell'Aquila, quindi si rischia una perdita della sede della Camera di Commercio che vedete anche in foto, se ne discuterà praticamente in comune. Continuiamo a rimanere sul quotidiano Il Centro, passiamo a una notizia che riguarda la sanità, l'ASL ci ripensa, Cipolletti nominato primario dell'urologia, ricorso in tribunale presentato dal medico per il ruolo di responsabile del reparto di Atri. L'azienda rifà i conti dei punteggi assegnati ai concorrenti e revoca l'incarico alla collega Granchelli. Restiamo sempre appunto sul quotidiano Il Centro, a Valle Castellana il comitato, subito un incontro sul referendum e poi la cronaca a Teramo, si aggira con un coltello in centro fermato, un uomo in stato confusionale in serata vaga da Piazza Martire e Tilli è stato bloccato da una volante della polizia. Per quanto riguarda invece le elezioni comunali, la CPO ricorda la doppia preferenza di genere e poi c'è stato il ricordo nel terzo anniversario della morte di Marco Pannella, il sindaco Gian Guidolo Alberto che dichiara che Pannella è stato un politico lungimirante. Ancora sul quotidiano Il Centro, in questo caso un altro titolo che abbiamo letto nella prima pagina, ci sono appunto delle accuse per quanto riguarda gli asfalti per il Giro d'Italia, Tortoreto Blasioli del Partito Democratico che dichiara 250 mila euro stanziati dalla regione a lavori praticamente conclusi che sono stati sottratti a Loreto e Penne. Infine l'albo degli agrotecnici si presenta agli universitari, siamo sempre a Teramo ed infine malattia mentale ad Alba, questo Alba Adriatico appunto corso per insegnare la pesca, un progetto appunto destinato ai malati di mente. Chiudiamo infine la pagina di cronaca per quanto riguarda il centro, ci spostiamo a Roseto, servizi sociali e scontro sul conto da 180 mila euro per saldare il 2018, Roseto vuole le pezze d'appoggio dall'Unione dei Comuni, l'assessore al sociale Luciana Di Bartolomeo che dichiara non abbiamo colpe, peraltro non ci hanno richiesto i soldi del 2019. Un atto poi di vandalismo a Martinsicuro, la piccola stazione che è preda dei vandali, la piccola stazione che ovviamente è inutilizzata. Poi le elezioni a Giulianova, siamo i più forti, facciamo paura, presentazione dei candidati delle sei liste di Costantini, e sempre a Giulianova in auto con un etto di asci, c'è stato denunciato un ragazzo di 19 anni. Chiudiamo infine la cronaca per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, sempre a Giulianova, Paese e Villa Pozzoni, incontro con i candidati sindaco, gli appuntamenti sia di oggi che di domani. Questa quindi la cronaca del quotidiano Il Centro, adesso apriamo l'ampia pagina dedicata allo sport, perché insomma i campionati nella maggior parte dei casi sono terminati, però in questo caso adesso si discute del futuro delle varie società e lo abbiamo letto anche nella prima pagina, occhi puntati insomma su quello che può essere il futuro del Teramo, il Teramo che ha ottenuto una bella salvezza quest'anno, una salvezza non sofferta, addirittura anche rischiato per un momento di accedere ai playoff, quindi adesso sono giorni decisivi per la società, c'è questa trattativa con l'avvocato Giovanni Palma che vedete appunto a sinistra nella foto, quindi decisivi tempi del passaggio, Palma che vuole tutto nel 2020, Campitelli invece chiede insomma un anno in più, l'attuale presidente del Teramo vorrebbe insomma un passaggio di consegne più soft, mentre appunto l'ex vicepresidente della Juve Stabia vorrebbe invece entrare subito e vorrebbe anche insomma un 50% delle quote societarie, quindi sono tanti gli aspetti che bisogna definire in questi giorni e lo ripetiamo, si parla di un ipotetico incontro mercoledì insomma tra le parti, quindi staremo a vedere quello che può essere il futuro del Teramo e lo ripetiamo, ne parleremo anche nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Scendiamo in serie D perché anche in questo caso si parla insomma di mercato, il notaresco con il mister Mirko Cudini che è al centro appunto delle trattative di mercato, il notaresco che è stata di fatto la rivelazione del campionato di serie D, a larghe linee insomma il quotidiano del centro dichiara che ci sarebbe una volontà di tenere il tecnico che però insomma ha fatto bene quindi ha anche diverse offerte da altri club, l'ex Ascoli appunto ha diverse richieste, quindi staremo a vedere quale sarà il futuro di Cudini, così come a Pineto si parla anche qui di quasi fine di un ciclo, insomma il mister Amaolo anche qui il campionato del Pineto è stato più che positivo, però appunto c'è una sorta, si vuole voltare pagina e Amaolo potrebbe lasciare la società del patron Silvio Brocco con Epifani in poll per la panchina, ricordiamolo che Amaolo ha collezionato più di 160 punti nella panchina del Pineto, quindi insomma davvero tanta roba come si dice in gergo dopo tre anni di successi, però sembrerebbe che insomma questo ciclo si può chiudere, ma anche qui staremo ovviamente a vedere tutto per il momento una ipotesi. Infine a Giulianova c'è l'appello del presidente Luciano Bartolini che praticamente mette tra virgolette in vendita il Giulianova fino al 31 maggio e annuncia chi vuole la società si faccia avanti perché dalla città non c'è stato nessun sostegno, quindi anche insomma una tra virgolette una frecciatina dell'attuale patron giallorosso Luciano Bartolini, anche qui staremo a vedere come si evolverà la situazione. Passando invece al calcio giocato, è cominciata ieri la fase nazionale playoff del campionato di eccellenza, la torrese di mister Cristofari che era impegnata sul campo di Castelnuovo contro il Porto Sant'Elpidio ed è stata insomma una mara sconfitta per i giallorossi, la torrese si sveglia tardi, colpo Porto Sant'Elpidio, i giallorossi perdono 3-1 in casa l'andata del primo turno contro i biancazzurri, il gol di Nardone tiene accese le speranze in vista del ritorno nelle marche. L'ingresso in campo degli attaccanti Maio e Chiacchiarelli cambiano il volto della gara, l'allenatore poi Cristofari che dichiara i cambi hanno dato vivacità, il buon secondo tempo ci fa essere fiduciosi, quindi insomma nonostante una pesante sconfitta c'è comunque tra virgolette positività in casa torrese e lo ricordiamo sono appunto chiamati a compiere una vera e propria impresa nel ritorno i ragazzi di Mister Cristofari. Scorriamo sempre le pagine del Quotidiano Il Centro e qui insomma dobbiamo di dovere, per dovere di cronaca, dedicare appunto il giusto spazio anche alla bella promozione del Miano che è appunto lo spareggio per quanto riguarda il girone di, stiamo parlando della prima categoria, il Miano che ha battuto 2-0 il Villa Mattoni con le reti di Di Carlo e Dattilo e quindi ha conquistato per la prima volta appunto la promozione nella serie di promozione, quindi scrive la storia, è il risultato più alto dei 52 anni di vita del Miano, il Villa Mattoni che va ai playoff e rivediamo appunto l'esultanza dei giocatori dopo la vittoria nello spareggio, quindi davvero si conclude nel migliore dei modi la stagione per i ragazzi di Mister Dalberto. Apriamo adesso la pagina dedicata al basket e in questo caso appunto si parla di playoff, sono rimaste in corsa per quanto riguarda la serie B, il Chieti e il Pescara, solo che ieri ha giocato soltanto il Chieti che era impegnata nella gara 4 delle semifinali sul difficilissimo campo di Salerno, sconfitta per i ragazzi di Coen 96-84 e stagione quindi finita per la Teate, niente da fare a Salerno, i biancorossi non demeritano ma i padroni di casa sono più determinati e finisce quindi 96-84, già Loreto e compagni hanno avuto anche l'opportunità di vincere ma non sono riusciti a gestire il vantaggio e per quanto riguarda le dichiarazioni nel post partita il presidente Marchesani che comunque guarda avanti e dichiara ringraziamo l'allenatore e i tifosi. Mentre resta appunto in corsa il Pescara di coach Stefano Raiola che ovviamente è la finalista quindi se la vedrà appunto contro il Salerno, entusiasmo in casa Amatori, tutti pronti alla nuova sfida, morale alto fra i pescaresi in vista dello scontro con la squadra campana. Coach Raiola che dichiara non l'abbiamo mai incontrata ma ha i giocatori di grande esperienza mentre il vicepresidente Donofrio che commenta a Nardò abbiamo mostrato il valore del nostro collettivo che è in ottima condizione quindi l'unica squadra abruzzese ancora in corsa resta l'Amatori di coach Raiola. Chiudiamo infine la pagina sportiva del quotidiano Il Centro parlando sempre di basket ma in questo caso di Cisilver si stanno giocando appunto le gare 1 dei playoff con la Teramo a spicchi che è stata beffata ad Assisi 65 a 63 partita tiratissima che si è giocata appunto in Umbria non riescono nell'impresa i ragazzi di coach Stirpe che comunque insomma hanno dimostrato di potersi giocare le proprie carte fino alla fine vittoria invece esterna anche qui un derby con l'Olimpia Mosciano che batte Vasto 69 ad 85 quindi l'Olimpia parte bene dominando sul campo del Vasto questa quindi la pagina sportiva per quanto riguarda il quotidiano Il Centro passiamo adesso invece al come diritto all'altro principale quotidiano abruzzese ovvero il quotidiano Il Messaggero partendo dalla cronaca in questo caso c'è un'analisi che è fatta sui cosiddetti canapa shop i negozi dove si può acquistare la cosiddetta canapa legalizzata e in questo caso appunto c'è un'analisi di come vanno tra virgolette le vendite per quanto riguarda la città di Teramo non vanno molto bene canapa shop più che salvini minacciati dalle scarse vendite tre i negozi in cui è possibile comprare derivati di cannabis senza principio attivo i proprietari che dichiarano incassiamo 50-100 euro ogni giorno impossibile andare avanti le difficoltà di un settore strettamente sorvegliato che con la prossima sentenza della Cassazione potrebbe essere anche definitivamente smantellato quindi insomma che qui ci sono dubbi in generale sulla vita che potrebbe avere questa attività nel nostro paese andiamo poi a Giulia Nova Giulia Nova che lo ricordiamo vota per quanto riguarda il futuro sindaco con Grimi che dichiara ci avvicinano ma non ci vendiamo e ovviamente vedete anche qui la foto dei sostenitori del candidato Ivan Costantini poi sempre a Giulia Nova ombrelloni appena piantati e i vandali li spezzano di notte quindi atti di vandalismo sul lungomare della città giuliese per quanto riguarda invece la cronaca si parla qui di un incidente travolge con l'auto un passante e si schianta è successo appunto ad un trentenne residente a Santomero investito da una donna di 32 anni di Ancarano verso le 19 di sabato a Sant'Egidio alla Vibrata vedete anche la foto appunto dell'incidente nel paese Vibratiano apriamo adesso la pagina sportiva per quanto riguarda il messaggero e anche qui partiamo dalle trattative insomma che sta operando la società del Teramo Calcio con l'avvocato Palma trattativa con Palma giorni chiave a Teramo dall'esito dipenderanno sia la scelta dell'organigramma societario che l'organizzazione della stagione si valuta l'ipotesi di effettuare anche il ritiro fuori città diversamente dal passato una notizia poi per quanto riguarda invece il calcio giovanile si svolgerà a Silvi l'evento Clinic Real Madrid 2019 organizzato appunto dall'SD Castrum Silvi con la Fondazione Real Madrid e il patrocinio del Comune prenderà il via lunedì 1 luglio restiamo sempre appunto sul quotidiano il messaggero in questo caso parliamo della sconfitta della Torrese contro il Porto Sant'Elpidio titolo esplicito Torrese che scoppola nelle fasi nazionali la squadra Teramana è stata sconfitta in casa per 3 a 1 ora serve un miracolo a Porto Sant'Elpidio la rete di Nardone concede solo una piccola possibilità di speranza pesa la rete presa a freddo dopo 9 minuti quindi lo ricordiamo il punteggio 3 a 1 per il Porto Sant'Elpidio clamoroso errore di Petronio spiana la strada nella ripresa il Pogibon si batte la Gazzanese qui si parla ovviamente anche degli altri risultati e poi chiudiamo praticamente la pagina per quanto riguarda il quotidiano il messaggero con il basket andando a vedere innanzitutto partendo dalle partite che si sono giocate ieri che ovviamente hanno visto protagonista in negativo il Chieti Chieti KO 96-84 ed è eliminato Pescara in finale quindi con il Salerno nel tabellone D di Serie B per quanto riguarda invece la stagione che si è conclusa del Roseto Roseto che ha conquistato la salvezza con 5 giornate d'anticipo e soprattutto l'accesso ai playoff c'è questa intervista realizzata da Luca Maggitti al playmaker Giancarlos Rodriguez che non ha dubbi e dichiara voglio restare a Roseto al primo anno di A2 non è più il cannoniere buono solo per le serie cadette quindi c'è insomma questa analisi anche fatta da Giancarlos Rodriguez che dichiara difficile giocare in questa categoria la mia migliore partita è stata contro il Verona e anche qui insomma le intenzioni societarie sono quelle di confermare un blocco consistente di giocatori per poi fidelizzare quelli che saranno praticamente i nuovi acquisti bene termina qui anche la pagina sportiva per quanto riguarda il quotidiano il messaggero siamo al termine per quanto riguarda invece la prima parte della nostra rassegna stampa e adesso come di consueto andiamo a vedere quelle che sono le previsioni del tempo buongiorno a tutti e buon lunedì da Pierluigi le immagini del satellite ci mostrano ancora l'Europa farcita di nubi nubi che derivano da una depressione che è centrata sull'Europa centrale che convoglia sistemi nuvolosi da occidente verso oriente questa situazione sarà presente sui nostri cieli anche fino a domenica prossima quindi avremo ancora instabilità soprattutto nelle aree interne soprattutto di pomeriggio quando in effetti avremo a che fare con temporali rovesci e piogge anche di una certa intensità per il resto variabilità e temperature che si manterranno qualche grado sotto la media del periodo andiamo adesso a vedere le previsioni del tempo per oggi 20 di maggio abbiamo indicato instabilità estesa instabilità soprattutto sulle aree interne dove non si escludono piogge temporali soprattutto dopo l'ora di pranzo ma instabilità che si sposterà anche sui fondovalli appenninici e localmente anche sulle coste dove potrebbero esserci ammassi nuvolosi consistenti e sporadicamente qualche debole piovasco i venti saranno deboli da occidente seguendo il flusso delle correnti e i mari poco mossi le temperature sono previste stazionarie e in linea con la media del periodo un paio di gradi sotto e comprese tra 4 e 9 gradi per quel che riguarda i valori minimi e tra i 17 e 21 gradi per quel che riguarda i valori massimi per il momento concluso grazie della cortese attenzione un buongiorno e una buona settimana a tutti voi da Pierluigi e ringraziamo per Luigi Casalena per le previsioni del tempo bene allora termina qui la prima parte per quanto riguarda appunto la nostra rassegna stampa adesso facciamo una breve pausa ci rivediamo tra pochissimo con la seconda parte la parte talk e il nostro ospite a tra poco grazie a tutti